e ma se deve fare quello la scusa e allora allora sali scendiamo facciamo quello come dice lui uguale adesso lo facciamo ancora qui su e perché ce li hai ancora sennò non le picchi che moto che moto e come cazzo vai c'è giù no mi picchio la coppa sotto mi taccio i coglioni ma mi tocco la coppa non mi piace lo rifaccio più alto piuttosto così è meglio e lo so ma l'incrociata scusami e deve venire di qua per scendere e andare di là ancora fa meno paura questo che quello lì se vuoi vedere si è perché tu lo vedi un po' lì è la prima che resta corta figaro prima è corta e ho capito ma no fino a vedi che scende la rosa di passato piantala vedi che arrivo lungo cazzarola devi fermarti devi fermarti un cazzo fanno più a piano questo no cicala fanno più a piano questo fanno più a piano questo fanno qua che tu fai ah devo farla tutta sì ma devi farla tutta Nani devi fare anche questo sì ma l'hai incrociata quante volte eh vabbè perché non puoi andavi di là e giravi così esatto bravo io non mi piacciono io non mi piacciono adesso vado a fare questo adesso faccio il secondo voglio vedere o mi ammazzo eh ma devi fare perché il secondo eh certo ma c'è anche il cazzo è in mezzo delle spalle adesso eh ma arrivo corto figaro il secondo ti butta su un po' eh no il primo resta troppo corta il secondo ti aiuta un po' eh perché quando scendi vai via un po' più lungo perché tu qua così lo fai troppo veloce eh ho capito cazzo non riesco a farlo come lo fa lui eh eh dopo lo sbaglio se lo faccio troppo lento se lo faccio sbaglio se lo faccio troppo lento non riesco non si spegne mai sta cazzo di moto la lascio spampi tanto non si ferma